Il comune di Catania intitolerà un piazzale della città a Maria Grazia Cotuli, l'inviata delle Corriere della Sera uccisa con altri tre colleghi in Afghanistan il 19 novembre del 2001. La cerimonia si terrà domani nel decimo anniversario della tragedia all'incrocio tra via Siago e via Messina. Domani sera inoltre il teatro Massimo Vincenzo Bellini ospiterà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. Oggi intanto lezioni magistrali dei giornalisti vincitori del premio, andato quest'anno per la sezione stampa estera alla giornalista spagnola di TV Angela Rodizio, mentre quello per la stampa italiana ai cronisti rapiti e poi liberati in Libia Elisabetta Rosa Spina e Giuseppe Sarcina del Corriere, Claudio Monici di Avvenire e Domenico Quirico della stampa. La vittoria di Angela Rodizio ha un forte valore simbolico. Per me è una grossa soddisfazione tanto professionale come personale aver ricevuto questo premio perché ho conosciuto Maria Grazia tanti anni fa prima della sua scomparsa e quindi è una sensazione molto speciale essere qui in Sicilia e con questo motivo. Il premio, giornalista siciliano emergente infine, è stato dato al fotoreporter Fabrizio Villa per i suoi servizi capaci di raccontare il nostro tempo e con la forza delle immagini e delle parole. Sicuramente è un motivo di grande orgoglio, essendo siciliano non mi aspettavo di aver assegnato questo premio. È un premio prestigioso anche perché è internazionale e poi come fotogiornalista mi gratifica tantissimo. Sono stato in Bosnia durante la guerra, in Medio Oriente, insomma esperienze di questo tipo ne ho fatte. La prossima settimana andrò in Afghanistan embedded al seguito dei nostri militari italiani. di una persona la quale avevo conosciuto. ...del compromesso storico e tante cose, no? Ma quello è l'osilio, c'era una parola così, no? E io l'ho detto a mio padre, ma papà.